Alza il volume TG Beach. Bene, d'estate c'è più tempo, per cui perché non andare a rileggere delle opere veramente straordinarie? Ebbene oggi, e qui ho pescato a caso alcuni libri dalla mia biblioteca, ebbene oggi parliamo di un grande neurologo di fama internazionale, Oliver Sacks. Questo libro davvero particolare si chiama In Movimento, la biografia di questo grande neurologo, ma io vi consiglio anche altri libri che sono sì istruttivi, ma anche tutto sommato divertenti, come Risvegli, Vedere Voci e soprattutto L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Vale veramente la pena rileggere, perché no? Alla prossima! Grazie!